Tatiana Totmianina e Maxim Marinin sono la medaglia d'oro di Torino che è l'artistico una coppia dai numeri molto importanti, 5 medaglie d'oro agli europei, 2 mondiali questo è il melodrama di Bocelli, da vivere insieme questa mia canzone, il mondo dell'amore te la trato adesso, con il mio mio dolore e il triplo lupo è lanciato, Ripperger è anche un triplo lupo, si vede la pista più corta, si arrivano molto al limite questa melodia questa melodia il mondo dell'amore e dal canto e sento tutto il mio dolore così forte così grande grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti